Insieme si soffre la pace che nasce da Lui per noi. Fratelli, la fede è nostra luce, gioia è la nostra vocazione. Lo incontreremo sul volto di ogni uomo. Io, fratelli, mi sono proposto di dirvi qualcosa su questa Chiesa. Non voglio fare raccomandazioni, ma spiegare questa Chiesa. 12 anni fa, il capitolo generale, ci riunivamo a pregare sotto, non nella cripta, ma più o meno in un sotterraneo, quasi in una cantina. Questo spazio veniva usato per lo sport, per fare le partite di pallavolo o le partite di palacanestro. Originariamente doveva essere la Chiesa, e la Chiesa di un quartiere che avrebbe dovuto sorgere qui attorno. Poi, durante il primo sessegno, a un certo punto cominciava a piovere. Quando pioveva, l'acqua scendeva e rischiava di arrivare anche sotto dove pregavano i frati. Abbiamo deciso che bisognava fare qualcosa. Abbattere o rinnovare? Abbattere non era più possibile perché passati 50 anni non si può farlo. Allora abbiamo chiesto anche ai nostri fratelli di farci un progetto. E un fratello americano fece il progetto di costruire come una porziuncola una chiesetta dentro in questa struttura. E da lì è nata l'ispirazione di creare uno spazio raccolto per la preghiera. Con l'architetto e con l'artista Rupnik abbiamo deciso che i materiali dovevano essere materiali semplici. Per questo c'è il legno, come nelle nostre chiese capuccine, è un pavimento molto semplice e molto povero. Nelle chiese capuccine, lateralmente all'altare, ci sono sempre degli spazi di preghiera nascosti. Questo spazio l'abbiamo messo dietro, nella cappella che ci sta dietro, dove i fratelli che studiano il collegio possono andare in ogni momento a raccogliersi davanti al Santissimo Sacramento. Mentre l'abside abbiamo discusso insieme, io ho detto a Rupnik, io vorrei che ci fosse un pantocratore, un Cristo risorto al centro dell'abside. E lui ci ha messo, ha messo il pantocratore in una forma che sembra un calice, ma il calice è il simbolo dell'abbondanza, è il simbolo della festa. Mentre qui, alla destra, alla mia destra, io ho chiesto che rappresentasse l'incontro di Mosè con il roveto ardente. Il roveto ardente Dio si manifesta in un cespuglio, in una cosa molto, molto povera, molto semplice. E l'artista si è ricordato, che sembra Efremi il Siro, dice che la Madonna che porta in sé il Cristo è il roveto ardente. Mentre sulla sinistra, in un primo momento, doveva essere rappresentata l'incontro di Maria e Elisabetta, i due, come dire, i due testamenti che si incontrano. Ma poi l'artista propose di fare un'altra scena, cioè il Cristo che invia i discepoli in missione. E così, per chi viene a studiare in collegio, si spera che abbia un vero incontro con il Cristo risorto e che si disponga a essere inviato per la sua missione. Io mi auguro e spero che questo luogo ispiri anche voi, vi aiuti nel vostro momento di preghiera, e soprattutto nel momento di preghiera comunitaria, perché l'abbiamo voluto disporre così perché ci sentissimo fraternità radunata attorno all'altare. Questo è un luogo per lodare Dio e lo lodiamo noi e lo lodano anche tutte le sue creature, perché quanto è rappresentato sul pavimento, questi animali, uccelli, fiori, funghi, pesci, perché tutto quanto dà lode al Signore. E un'ultima cosa, voi vedete che non è completo il luogo, si vede la struttura fuori. Perché questo? Perché tutte le nostre strutture sono di passaggio, noi siamo in cammino verso una patria che è la Patria Celeste. Grazie. 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 Grazie.